Buonasera a tutti, siamo qui a Natale in Arte 2017, seconda edizione, tema maternità. E' qui con noi Lucia Santoro che adesso ci presenta e ci parla della sua opera. Prego. Allora, a me piacciono i classici e mi piace anche il nostro territorio, per cui mi sono ispirata a Raffaello e ho riprodotto la Madonna con il bambino di Raffaello, però nel nostro territorio, in Salento. Per cui il titolo è In matanza nel Salento. A cosa, diciamo, ti sei non solo ispirata, ma a che cosa hai voluto anche trasmettere tu con questa tua opera? Bellezza, penso io, perché era Raffaello, comunque nei classici c'è tanta sensibilità, bellezza, armonia e quindi ho voluto trasmettere quello. Bene, complimenti. Grazie.